O pure a principessa nella tua bella stanza, guarda lì le stelle che tremano d'amore di speranza. Guarda lì le stelle, guarda lì le stelle che tremano d'amore. Guarda lì le stelle, guarda lì le stelle che tremano d'amore. Guarda lì le stelle, guarda lì le stelle che tremano d'amore. Guarda lì le stelle, guarda lì le stelle, guarda lì le stelle che tremano d'amore. Bravo! 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 L'International Boxing Federation, signor Roberto Rea, insieme a lui l'arbitro dell'incontro, signor Giustino Di Giovanni. Il cinema di Fondi e per tutti coloro che sono collegati su Sport Italia, è arrivato il momento che... Gli guerrieri entrino nell'arena! Fai lì le stelle, guarda lì le stelle, guarda lì le stelle, guarda lì le stelle. Gli guerrieri entrino nell'arena! Gli guerrieri entrino nell'arena! Gli guerrieri entrino nell'arena! Grazie a tutti. Simone Carlson! All'angolo blu, al peso di 88 kg e 800, impattano Cini Neri con un record a professionista formato da 41 in conti disputati. 24 vittorie per lui, 20 delle quali per K.O., 17 sono le sconfitte. Già campione di Georgia per la categoria pesi supermedi e il cospidante al titolo del Mediterraneo IBF dei pesi massimi leggeri. Per il White and Red Boxing Team da Gurtzani, Georgia, Zura Mekereshvili. Il suo avversario, all'angolo rosso, al peso di 89 kg e 600, impattano Cini Neri con un record a professionista formato da 15 in conti disputati. 13 vittorie per lui, sede le quali per K.O., una sconfitta ed un pari per lui. Già campione d'Italia e il cospidante al titolo del Mediterraneo IBF dei pesi massimi leggeri. E' accompagnato dall'angolo da Franco Federici, Franco Zonfrillo, Simone Autorino e il manager Davide Buccioni. Per la BBT Production da Roma Italia, Simone Tyson Federici. Ed ora è arrivato il momento di ascoltare gli inni nazionali, iniziamo con l'inno nazionale della Georgia per Zura Mekereshvili. Un applauso per Rally. E ora dalla splendida voce del tenore Francesco Malapena ascolteremo l'inno di Mameli. E' così, perfetto. Dal vivo... Dal vivo... Dal vivo... Dal vivo... ... ... Grazie a tutti. 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 Vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Grazie a tutti. Vai, vai. Vai, vai, vai. Lo fa, vai, vai. Grazie a tutti. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Viva, vai, 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 vai. Sì, 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 Sì! Sì, Sì! Sì, 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 Sì! Sì, Sì, Sì! 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 Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! 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 Sì!